Salma sotto sequestro a disposizione del PM del Tribunale di Brindisi, Livia Orlando, in attesa dell'esame autoptico, il cui incarico potrebbe essere affidato al medico legale venerdì. Solo dopo sarà possibile salutare per l'ultima volta Andrea Catameroi, il 25enne di San Vito dei Normanni, travolto e ucciso da un'auto nella notte tra domenica e lunedì, dopo aver trascorso la serata in compagnia di amici in un lido che si trova in località Il Pilone, lungo la costa di Ostuni. La nostra città è scossa da questa notizia dolorosa che colpisce tutti noi, soprattutto per la dinamica dell'evento. Invito tutti a riflettere sull'importanza della responsabilità che abbiamo nei confronti del prossimo, ogni volta che ci mettiamo alla guida, commentato il sindaco della Città Bianca, Angelo Pomes. La cerimonia funebre si terrà nella chiesa di Santa Maria della Vittoria a San Vito, nel cuore della cittadina normanna, che il giorno dopo il dramma è ancora attonita. In tanti conoscevano Andrea, la sua famiglia, mamma Fiorella, papà Salvatore, la sua casa di via Vittoria Emanuele III. Non lo conoscevo, però è sempre un ragazzo, è dispiace perché morire a quell'età è brutto, rimane nel cuore della madre un dolore che non finirà mai. Di persona non lo conoscevo, però è sempre un ragazzo di San Vito che era pure nominato, era nipote a un signore che è morto il giorno prima, è morto. E purtroppo il paese si vestirà di lutto sicuramente. Bisogna aspettare pure l'autopsia prima di fare il funerale. Intanto è in carcere con l'accusa di omicidio stradale aggravato e omissioni di soccorso, dopo che gli amici di Andrea erano riusciti ad appuntare la targa della Mercedes che lo ha travolto. Marco Mola, 26enne, residente a Pezze di Greco, che avrà la possibilità di indicare dei periti di parte. Un dramma nel dramma, quello di una vita interrotta tragicamente, quello di una vita che non sarà più la stessa. Di due famiglie piombate nel dolore atroce che le accompagnerà per sempre.